Una delle opere su cui vengo più attaccato, ma solo in Italia si litiga sulle gallerie, sui porti, sugli aeroporti e sui ponti, è il ponte di Salvini, è un ponte sovranista, è un ponte di destra, no è un ponte, il ponte fa il ponte, il ponte Manzoni-Alecco, il ponte di Paderno-Dadda, il ponte di Longobuco, il ponte Diana in Sardegna, il ponte serve alla gente che si unisce, che commercia, che si avvicina. Il mio obiettivo, come detto, e poi vedremo se vinceranno le scommesse alcuni dotti analisti che scrivono su importanti quotidiani italiani, oppure se vincerà la realtà, è di arrivare all'approvazione del progetto in via definitiva del CIPES entro l'anno 2024, con l'avvio dei cantieri immediatamente conseguente. Cosa vuol dire il ponte? Vuol dire il ponte a campata unica più lungo al mondo, non ce ne sono altri e lo facciamo noi italiani, sì, anche la cupola di Brunelleschi non aveva precedenti nella storia dell'architettura. Anche ai tempi è interessante studiare, come la storia si ripeta, c'erano i no cupola, non serve, costa troppo, non sta in piedi, c'è vento, il terremoto, l'hanno fatta e se uno va a Firenze hanno avuto ragione e si cupola. Conto, senza ambizioni di paragoni con il Brunelleschi ovviamente torno piccolino, però conto che ci sia lo stesso risultato.